laudetur jesus christus cari amici tele radioascoltatori e per luigi bianchi gagliesi che vi parla oggi giovedì 23 novembre 2023 per la nostra trasmissione straordinaria di approfondimenti che quest'occasione ci vede ancora insieme al carissimo fra pietro che intanto saluto e ringrazio particolarmente per la sua disponibilità ave maria fra pietro ave maria e salutato gesù cristo per luigi anche io saluto te è un piacere sempre quando si sta insieme e tra amici ci si capisce così come tra noi due sicuramente anche tra i carissimi amici che ci ascolteranno che questa questa condivisione fraterna ecco sì che tutti ormai aspettano con gioia perché sta diventando un appuntamento abbastanza abituale di cui ringraziamo veramente la provvidenza e in particolar modo te fra pietro per questa tua disponibilità ecco io fra pietro in questa trasmissione volevo insieme a te sottolineare alcuni aspetti legati proprio all'azione misteriosa della provvidenza di dio che spesso chiede agli uomini di qualche modo partecipare e corrispondere alle grazie che il signore vuole dargire vuole darci proprio come aiuto in questi periodi anche particolari straordinari come in tanti altri periodi della storia difficili in cui il signore è intervenuto dando degli aiuti particolari per sottolineare questa traccia questo mistero che unisce diciamo queste fasi della storia a aiuti particolari che giungono attraverso delle richieste di anime sante che si fanno portavoce di questi appelli del cielo per chiedere qualcosa a noi e chiedere qualcosa agli uomini per corrispondere maggiormente alle grazie di dio e eventualmente anche praticare e cercare di vivere la propria vita la propria fede in una maniera più coerente c'è una traccia misteriosa che unisce in modo particolare tutta una serie di anche messaggi messaggi providenziali giunti al cielo che hanno indicato itinerari che non sempre hanno visto la corrispondenza la grazia degli uomini in alcuni casi si molti casi no e c'è un filo misterioso appunto che unisce alcune anche di queste apparizioni o di questi messaggi proprio per far capire come nel grande mistero dell'azione della grazia della providenza di dio spesso quello che manca è la corrispondenza degli uomini ci sono stati episodi molto importanti nella storia che hanno determinato poi in conseguenza della non corrispondenza alla grazia delle vere e proprie catastrofi dei disastri ricordo ad esempio le apparizioni di del sacro cuore di gesù che chiedeva attraverso santa margherita maria la cocca di consacrare la francia al re chiedeva luigi quattordicesimo di consacrare la francia al sacro cuore di gesù cosa che non venne fatta salvo poi due re successivi trovarsi nella catastrofe della rivoluzione francese e quando si pensò di correre dai ripari ormai era troppo tardi ecco questo filo misterioso no che certe volte uno a volte si chiede come è possibile che il signore leghi delle grazie straordinarie anche ad azioni che sembrano apparentemente piccole a delle pratiche apparentemente facili ma poi alla fine fra pietro scatta questo misterioso meccanismo che inceppa tutto blocca tutto e alla fine si vanifica questa possibilità di ricevere questo torrente di grazie che invece non giungono più in conseguenza di questo di questa mancata corrispondenza alla grazia ecco proprio su questo punto su questo filo misterioso che unisce appunto fatti molto importanti avvenuti in passato ma anche in prendere nel tempo presente e cosa possiamo dire fra pietro riguardo questo gioco misterioso della provvidenza di dio e questo mistero della non corrispondenza alla grazia Pierluigi grazie per questo binario in qualche modo di riflessione che hai voluto aprire andando effettivamente a ripescare un tema un blocco tematico perché in realtà è così pieno se si se si evidenziano poi i grandi episodi della storia recente meno recente ma così importante che ebbene direi proprio in questo momento che stiamo vivendo all'alba o meglio già dentro cambiamenti epocali e tragedie che possono effettivamente allargarsi su vasta scala riprendere questo punto di grande importanza allora visto che sant'agostino dice in certi sunitas in indubbis libertas cioè nelle cose certe bisogna essere diciamo avere lo stesso parere nei dogmi quello è e quello deve essere ma nelle cose dubbie una certa libertà di pensiero si può ed è giusto averla allora mi sia permesso esprimere questa convinzione cioè che il signore si serva di queste manifestazioni ad alcune anime lette come è stato come è stata santa margherita la cocco col sagro cuore come è stata soluzione di fatima col cuore immacolato come è stata la serva di dio berth petty belga con il cuore addolorato immacolato di maria di cui diremo magari qualcosa dopo perché è importante la serva di dio maria natalia magdonna cioè tutto una delle anime che la cui santità è palese anime semplici anime umili generalmente non figure del clero dell'alto del basso clero ma ecco anime semplici ma che poi hanno avuto in tessuto rapporti di diciamo di direzione spirituale di obbedienza umile ecco però c'è questo fatto che le inadempienze questo fil rouge di inadempienze e si sta come dire ingrossando sempre di più e perché a mio avviso ci sta un motivo anche un po di superbia a mio avviso cioè perché questo lo sappiamo da un fatto che la storia ci narra c'è più undicesimo il papa del concordato nei patti lateranensi che se non erro fece 29 o 30 concordati in tutto il suo pontificato in un papa anche dalla tempra diciamo energica forte anche politica un papa che seppe avere la forza energia di condannare ufficialmente pubblicamente il nazismo e il comunismo tuttavia quando venivano da lui dei diciamo funzionari insomma del vaticano che gli portavano delle notizie di questo genere c'è quest'anima lì in portogallo o lì in francia a cui il signore ha chiesto ecco di questa come fare una consacrazione questo quell'altro il papa si irritava si irritava batteva i pugni diceva ma perché se io sono il papa il signore non viene a dirmelo a me allora purtroppo questa cosa qua se non in modo così eclatante magari come papa più undicesimo forse non è santo proprio qui probabilmente sarebbe stato canonizzato se ci fosse stato anche questo aspetto nella sua pontificato però è una cosa che contraddistingue un po il clero e poi l'altro motivo penso che il fatto di rimanere ingabbiati in questa categoria di rivelazioni private siamo anche sempre qui nel nel discorso indubbis liberta se io non dico niente di definitivo ma a mio avviso il fatto di rivelazione privata se si prende il senso che si è sempre preso che non è rivelazione pubblica che insomma non sono nuovi contenuti di fede ci siamo ma quando si dice rivelazioni privata si tende a svalutare tu cur ogni tipo di manifestazione rivelazione mettendo quasi tutto sullo stesso piano mentre c'è una bella differenza tra una rivelazione veramente privata come diceva anche monsignor laurenten morto nel 2017 che effettivamente notava questa cosa dice ma se appare a una contadinella e dice guarda prega di più che io ti guarisco a tua mamma finisce lì e in effetti è proprio privata nel senso riguarda il suo orticello la sua famiglia ma quando appare a su lucia e dice 1929 attui e dice è arrivato il momento in cui nostro signore chiede la consagrazione della russia al cuore immacolato fatta dal papa e non con tutti i vescovi mi dite cosa di privato questa cosa è privata sì è sicuramente privata in quel senso lì che non è qualcosa che aggiunge contenuti successivi ma il signore lì vuole obbedienza non dice se mi si vuole ascoltare bene però poiché è una rivelazione privata potete anche ignorarmi non dice così allora secondo me su questi due punti che ho evidenziato il fatto un po di questa superbia intellettuale ho legato forse clericalismo vogliamo usare questa espressione ecco e dall'altra parte il fatto di non riuscire a sganciarsi da questa idea rivelazioni private bisogna vagliare perché quando ci sono alcune di una certa rilevanza anche sociale sociopolitica internazionale bisogna fare sul serio e poi uno dice no chi me l'ha detto chi non me l'ha detto va bene interpelliamo la storia e se noi interpelliamo la storia vabbè partiamo dal sacro cuore giusto per avere un incipit tutte le inadempienze hanno avuto delle situazioni dei riverberi diciamo catastrofici posso ricordare per luigi solo quello che è successo dopo la non ecco le conseguenze dell'inadempienza della richiesta sacro cuore innanzitutto il 17 giugno 1689 sor margherita maria la coc santa canonizzata dalla chiesa faceva pervenire metteva per iscritto in quella data e faceva pervenire al re di francia luigi quattordicesimo la la volontà di gesù cristo di consagrare la francia al sacro cuore luigi quattordicesimo non ascoltò cosa avvenne esattamente un secolo dopo stesso giorno 17 giugno del 1789 un cento anni esatti dopo dal giorno in cui santa margherita aveva scritto il terzo stato si ricerse autoproclamandosi assemblea nazionale e strappando a re luigi sedicesimo il potere legislativo inaugurò la rivoluzione francese e il 21 gennaio 1793 la francia il riconoscente in ribellione contro il suo dio osò decapitare luigi sedicesimo un re anche molto pio che però ebbe il demerito grave demerito di non prendere in considerazione questa richiesta ma le conseguenze di questa inadempienza da quel se cosa successe in quel secolo dal 17 giugno 1689 al 17 giugno 1789 un declino progressivo globale non solo della francia ma dell'intera europa perché cristo aveva scelto la francia per essere qualche modo faro per tutte le nazioni europee con la caduta della francia è caduta tutta l'europa andiamo sul concreto dopo la morte di luigi sedicesimo di luigi quattordicesimo quella francia che avrebbe dovuto diventare promotrice della riscossa cristiana cedette alla crescente influenza del razionalismo e del libertinismo che la indebolirono spiritualmente e moralmente ma anche l'intero continente entro il lungo periodo di crisi indicato dagli storici come inizio della decadenza europea che sfociò nella tragedia della rivoluzione francese tuttavia nel diciottesimo secolo alcuni membri della corte francese vennero a conoscenza delle divine richieste e diventarono apostoli della devozione al sacro cuore come la regina maria lecinsca suo figlio il delfino cioè erede al trono di francia che fecero erigere a versailles una cappella in onore del sacro cuore che fu inaugurata successivamente insomma ci fu un certo interesse però nemmeno luigi sedicesimo qui pervenne poi questa richiesta tramite questi apostoli e saudì e toccò proprio a lui la drammatica sorte di pagare le conseguenze di queste inadempienze non solo la rivoluzione ma anche la decapitazione e beh in effetti in prigione pochi giorni prima di essere decapitato luigi sedicesimo ricordò queste cose ricordò il messaggio di gesù a santa margherita scrisse di suo pugno una commovente lettera dicendo che se fosse scampato alla morte sulla prima cosa che avrebbe fatto avrebbe consagrato la nazione al sacro cuore ma come disse gesù a su lucia nel 1900 ricordiamo anche questa cosa no 1931 31 apparendo insomma in un comune di tui pochi erano passati due anni dalla richiesta allora disse il signore fai sapere ai miei ministri dato che seguono l'esempio del re di francia nel ritardare l'esecuzione della mia richiesta che lo seguiranno nella sciagura non sarà mai troppo tardi per ricorrere a gesù ea maria in effetti il re luigi sedicesimo si ricordò tardi noi non ci stiamo manco ricordando tardi di questa cosa non ci stiamo proprio ricordando cosa succederà punto interrogativo basta lascio la parola a te per lucere è fatto un escursus straordinario molto importante e tra l'altro ricordiamo come all'interno di questa catastrofe che è stata diciamo provocata dalla rivoluzione francese le uniche aree della francia che rimasero integre in qualche modo e fedeli a questo messaggio furono proprio la bandea la bretagna dove aveva predicato san luigi glion de bonfort quindi le zone infatti che poi insursero per difendere proprio il sacro cuore per difendere la legalità la monarchia e per difendere la proprio francia cattolica furono queste regioni che diedero una prova di un eroismo tra l'altro straordinario ma ormai i giochi erano fatti qualche modo il disastro è raggiunto e se volessimo fra pietro attualizzare la situazione di allora è quello che guardava la francia in modo particolare ma poi è stata una catastrofe che si abbattuta su tutta l'europa e volessimo oggi aggiornarla alla questione legata alle apparizioni di fatima alla non corrispondenza anche qui sulle richieste della madonna riguardanti la consacrazione della russia e i disastri che oggi stiamo vedendo come li potremmo collocare secondo te sì beh per luigi io ecco mentre preparavo un po di schede di cose per la trasmissione mi è venuto questo pensiero detto guarda un po un secolo esatto dalle inadempienze della richiesta del nostro signore di consacrare la francia esatto un secolo esatto e diciamo sì c'è stato un declino progressivo dal momento stesso in cui la cosa è stata messa da parte però come dire il punto apice della della sciagura è venuta con un secolo esatto con la rivoluzione francese io stavo pensando ma non è che pure per noi adesso dovrà passare un secolo esatto da quella richiesta del 1929 per una sciagura immane che può prendere proporzioni dio solo lo sa insomma io questo non lo so la butto lì come un'ipotesi sta di fatto che se questo non possiamo saperlo anche se ci mancano pochi anni quindi se in qualche modo chi c'è chi chi è che ascolterà stata la trasmissione per luigi i nostri amici le nostre amiche non certo il papa non certi vescoli peccato in qualche modo perché in effetti ci sono c'è una porzioncina di anni che permetterebbe ancora di leggere la nostra situazione in quell'ottica che diceva il signore a sur lucia non è troppo tardi per ricorrere a gesù a maria però verrà un momento in cui sarà troppo tardi allora però anche qui non è che possiamo risolvere questo problema qui io però vorrei dire in effetti in questo secolo diciamo quasi compiuto da quella richiesta e noi già vediamo che le devastazioni inenarrabili e non c'è il tempo per fare una cronistoria ma non c'è bisogno i nostri amici così si fanno un po di mente locale ecco si rendono conto una ora le elevazioni devastazioni inenarrabili nel corso degli decenni ma ora abbiamo una nuve tossica e per ricordare due profezie di padre pio quando disse nella prossima generazione i demoni si incarneranno negli uomini dalla fanciullezza all'età senile padre pio disse questa cosa micidiale e io quando l'ho sentito detto mio dio ma siamo sicuri che me l'ha detto padre pio se non fossi sicuro per il testimone di massima fiducia però adesso abbiamo qualche modo questa esperienza diretta perché delle persone ti dicono proprio questo mi sembrano demoni non uomini alcune persone che vedo in giro con cui sono in contatto e l'altra cosa terribile che disse a clonice morcalvi che aveva questa sensazione percepiva i demoni attorno in giro e lo disse a padre pio padre sto ammattendo padre pio disse se i demoni prendessero la consistenza fisica si facessero vedere la consistenza fisica di un granello di sabbia oscurerebbero il sole perché sono troppi qui sulla terra sganciati dall'inferno perché noi abbiamo dato la libertà tramite le nostre volontà cattive di venire qui a fare il loro lavoro quindi c'è questa nube tossica che ci avvolge e in qualche modo il sole spirituale il sole della grazia il sole di dio il sole del bene è oscurato e mi ricordo un'altra espressione terribile di cardinal pacelli ancora non era papa pio XII che parlando con un amico conte gli disse io sono preoccupato per il messaggio che lucia di fatima ha dato al mondo e parlava proprio di questo suicidio della fede suicidio della fede allora secondo me l'espressione più efficace una metafora più efficace per capire in che stato ci troviamo a quasi un secolo da quell'inatempienza è suicidio suicidio della fede suicidio della morale suicidio del bene siamo al suicidio allora a questo punto non è che l'ultima visto che si dice forse anche giustamente io ne sono convinto che bisogna fare sempre tutti gli sforzi fino all'ultimo no come il soldato che pure da solo contro i nemici fa il suo dovere di soldato e se c'è da morire c'è da morire questo sì però dato la situazione di forze impari diciamo nel contrasto del male con le forze del bene non è che dobbiamo veramente in questo momento ricorrere ricorrere con fiducia a queste promesse celesti visto che qualcuna è ancora aperta perché quella della consagrazione della russia c'è c'è il dialogo come dire la cosa continua di dire ma è stata fatta non è stata fatta chi la pensa in un modo che la pensa dell'altro quindi pare che non la faranno però intanto nostro signore si rivelò a verte petit a questa serva di dio belga che aveva come padre spirituale niente meno che il cardinal merci è uno dei più grandi cardinali del novecento promotore della mediazione con redenzione di maria come dogma quindi una figura mariana altissima il signore tra i tanti messaggi che le diede disse io ho scelto questo momento cioè quello vediamo se ritrovo il messaggio ecco un uragano spaventoso si prepara si vedranno scatenate tutte le forze preparate con rabbia e questo è il momento ma o mai più di abbandonarsi a cui addorato addolorato immacolato di maria e in un altro punto dice che ha scelto l'ora della del declino universale vediamo qui ecco sì umanità va verso una tormenta spaventosa essa dividerà ancor più i popoli ridurrà nulla le combinazioni umane dimostrerà che nulla sussiste senza di me e che io resto il padrone dei destini e dei popoli ho scelto l'ora del declino universale perché sia ascoltata la mia richiesta quella di una consagrazione al cuore addolorato e immacolato di maria forse non è ancora troppo tardi è veramente impressionante perché quello che poi colpisce che fa riflettere sempre di più e come il cielo il signore chiede proprio piccole cose anche non sono diciamo richieste che uno potrebbe dire proporzionate alle grazie che il signore tende concedere no perché poi anche relativamente alla francia di luigi quattordicesimo la richiesta diceva che se il re avesse corrisposto alla grazia avesse consacrato la francia la francia avrebbe svolto un ruolo straordinario cioè avrebbe rafforzato proprio la sua presenza nel suo potere anche dal punto di vista dell'influenza che la monarchia francese aveva quindi cioè una catastrofe segnata per una non corrispondenza alla grazia che è veramente certe volte misteriosa incomprensibile ma questo è il mistero dell'anima umano che che di fronte anche a delle opportunità che il signore da si chiude misteriosamente e blocca che l'itinerario della provvidenza di dio certo che luigi è impressionante vedere questo iter come dire quasi monotono va bene va non c'è a livello così globale una presa di coscienza di questa logica che deve deve essere un po riconsiderata però io per lasciare come dire un messaggio di speranza che l'ultimo a morire in effetti non muore mai perché la speranza è divina in effetti la cosa bella nostro signore mentre dava queste richieste prevedeva nella sua sapienza e scienza infinita che non sarebbero state accolte ma proprio per questo non ha legato esclusivamente la salvezza a l'obbedienza di un capo supremo certo se l'avesse fatto un capo supremo papa o che dire capo di stato che che sia sarebbe venuto diciamo un beneficio universale però il signore la madonna vogliono che anche le singole realtà le famiglie le piccole comunità magari le parrocchie o insomma sì le piccole cellule della vita sociale ecclesiale recepiscono questi messaggi perché ci sono dei frutti straordinari ugualmente anche se più confinati e a me viene in mente il fatto giusto per dirne una che il portogallo accolse la richiesta di nostro signore e consacrò al cuore immacolato il paese di fatti il portogallo fu risparmiato sia dalla seconda grande guerra della seconda guerra mondiale che dal comunismo e questo è un dato storico inoppugnabile certo non è stato risparmiato tutto il mondo ma il portogallo sì perché ha obbedito così come la richiesta di nostro signore alla serva di dio bert petty e come ci dice l'autrice del libro su di lei no irene corona che è la questa richiesta principale della consacrazione di tutta la chiesa giace diciamo ancora in evasa nei cassetti vaticani dove le occasioni le sì di riprenderla non sarebbero poche ma niente da fare però ci sono dei casi molto belli che a me piace ricordare proprio brevemente invece dove essa si è si è ascoltata le cose sono state molto diverse e ad esempio vediamo qui molte comunità che prima e dopo il movimento delle consagrazioni a cuore immacolato iniziato con la consagrazione del mondo fatta da più dodicesimo nel 42 si consacrarono a cuore addolorato immacolato attestano i benefici effetti di santificazione protezione da esse risentiti specialmente durante gli ultimi mesi di guerra missionari scrivono dal congo dalle filippine dalla cina dal marocco dall'algeria dalla canada rilevando quanto influisca questa devozione soprattutto dopo la consacrazione effettuata secondo il volere del signore per comprendere più profondamente il mistero di maria in quei popoli e quindi comportarli a conversione oppure l'altra cosa che si può dire che dove è stata intronizzata anche nelle famiglie questa immagine bellissima dei due sacri cuori sormontati dalla colomba dello spirito santo molti migliaia di quadri furono intronizzati nelle famiglie nelle case e ci fu protezione spirituale e materiale in questi focolari dove ciò è avvenuto ma la cosa è più eclatante che il vescovo di Westminster nel 1916 accolse la richiesta di Bert Petitli quindi il vescovo di Inghilterra fece ben tre consacrazioni tre consacrazioni alla al cuore addolorato immacolato di maria sui nuovi impulsi del signore che poi richiedevano un atto ancora più pubblico obbedì in tutto e cosa avvenne avvenne che che qui sarebbe lungo ma sono degli episodi storici incredibili ad esempio nelle memorie del maresciallo foc che era totalmente ignaro di di questo fatto soprannaturale semplicemente lui scrive a testa quello che era successo che gli inglesi combatterono in modo straordinario riportando vittorie su vittorie al principio d'ottobre avevano sfondato nei punti più solidi la formidabile linea in de burgh ma fatto strano queste vittorie hanno state testi conseguite quasi a loro insaputa essi sembravano non essersene resi conto eccetera eccetera cioè io voglio dire per luigi in realtà c'è ancora speranza e se non ascolto dall'alto possiamo noi dal basso essere in qualche modo promotori attivarci con queste consagrazioni queste richieste perché sono veramente salvifiche spesso anche dal punto di vista materiale ma poi in modo particolare in questo momento no veramente difficile soprattutto che stanno attraversando le famiglie con sofferenze inaudite spesso causate anche dai figli questi figli che intraprendono strade e percorrono itinerari mortali terribili e vediamo l'episodio di questi ultimi giorni nel Veneto insomma sono episodi molto significativi che danno la misura del baratro che stanno raggiungendo anche queste purtroppo queste nuove generazioni e qui viene in mente fra pietro quella bellissima apparizione alla alla Maria Magdolna che appunto dava dei motivi proprio di speranza di una fiducia straordinaria proprio per la salvezza di questi giovani ecco mi farebbe piacere se verso la fine della nostra trasmissione in conclusione ci potessi anche ricordare questo episodio così importante e questa devozione fondamentale guardate luigi molto molto volentieri allora innanzitutto si tratta di renderci conto che noi abbiamo delle scialuppe di salvataggio ecco per il nostro tempo e devono essere fatte conoscere alle anime dio lo vuole e così deve essere del resto abbiamo ripeto anche le spalle coperte perché sono figure veramente di santità queste di cui stiamo parlando non chiunque preso pescato da da qualsiasi parte sono figure di grandi santità promosse appoggiate stimate capite comprese da figure come cardiano mi zenti nel caso della della mistica ungherese maria nagdolna abbiamo detto il cardiano marcier per la bert pt ma poi se si legge la vita di queste anime sono anime immolate anime eucaristiche anime mariane anime olocausti anime veramente di grande santità quindi andiamo tranquilli andiamo sereni ecco in questo senso e direi che appunto quello che è rilevante per noi è a diciamo accogliere queste richieste soprattutto quelle che hanno una come dire un motivi di efficacia di speranza più grandi allora per quanto riguarda i cinque primi sabati sappiamo la richiesta di fatima non scade mai quindi a quella appoggiamoci in più nei tempi drammatici che stiamo vivendo ecco il signore è stato particolarmente generoso io vorrei ricordare quello che ci dicevo nella primissima intervista fatta insieme per luigi era il 2019 se non erro e che poi ho saputo l'hanno veramente ascoltata in tanti 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 e è stato provvidenziale perché ha fatto diciamo conoscere un po queste promesse queste cose belle che il signore ha donato quest'anima per tutti noi e ricordo allora quella apparizione quella si rivelazione nel 1986 della madonna era ormai anziana la nostra serva di dio e la madonna le disse nel cuore di molte madri oggi il dolore è bruciante il loro cuore oppresso dalle condizioni spirituali dei loro figli dalla loro condotta immorale dalla preoccupazione del loro destino dopo la morte mossa compassione ecco qui dal mio amore verso di loro con le mie implorazioni ottenuto cinque promesse si consolino dunque offrano con impegno istancabile tutti gli avvenimenti della loro vita perché i sacrifici offerti per altri producono frutti di salvezza per le anime inoltre non è possibile superare l'amore misericordioso di dio e quali sono quelle cinque promesse straordinarie che la madonna fece io poi interpellai per luigi l'autrice del libro si amatera proprio per chiedere delucidazioni insomma innanzitutto se l'interprezione che avevamo dato fosse giusta quindi l'offerta della vita non come anime vittima quelle anime speciali ma come qualche modo l'offerta della propria vita soprattutto le cose di sofferenza che vengono offrirle con grande amore in questa dimensione e lei mi ha detto che dalla frequentazione degli iscritti della della mcdonald e tutto lei si era formato una commissione solidissima che era questo il modo giusto quindi non è non è richiesto alla mamma adesso che magari ci sta ascoltando che faccia diciamo un voto di vittima e anche perché quello non è lecito se non quando si sta a stadi elevatissimi ma quello di cambiare la prospettiva l'ottica con cui guarda la propria vita magari anche le disfatte le distruzioni gli sfaceli e anziché appunto ribellarsi o qualche modo dire non c'è più niente da fare trasformare tutto in offerta allora ecco che arriva questa grazia straordinaria delle promesse nessuno dei loro familiari andrà all'inferno anche se l'apparenza esterna lo farebbe supporre perché al momento in cui l'anima abbandona il corpo riceveranno la grazia del pentimento perfetto numero due nello stesso giorno dell'offerta saranno liberati dal purgatorio tutti i defunti della loro famiglia credibile numero tre al momento della loro morte sarò loro vicina e porterò la loro anima alla presenza della santissima trinità senza passare dal purgatorio numero quattro i loro nomi saranno iscritti nel cuore di gesù e nel mio cuore immacolato numero cinque per questa offerta unita ai meriti di cristo salveranno molte anime dalla condanna eterna quindi che va anche al di là del nucleo della propria famiglia si estende ai grandi bisogni universali e beneficeranno le loro le anime fino alla fine del mondo non so veramente no ma è questo in effetti fra pietro il mistero no che volevo appunto sottolineare all'inizio cioè delle grazie talmente uno dice ma è possibile una cosa del genere un oceano di grazie di questo tipo legate poi alla fine a una piccola devozione se vogliamo un che però forse nel nel cuore di dio e nel quella che è proprio la consapevolezza che noi spesso non abbiamo e che invece non è così piccola è una cosa evidentemente che per il signore non è piccola è una cosa importante sì poi c'è anche la logica di quella obbedienza che il signore vuole che indipendente dall'opera esterna perché cos'è che produce la diciamo la svolta e quindi ottiene questa salvezza individuale o poi dopo più ampia è legata all'obbedienza in sé non tanto alla cosa ricordiamo biblicamente il caso di naman il siro no che si bagnò sette volte al giordano e in effetti era titubante all'inizio ma che mi dice qui il profeta se era un profeta di dio mi avrebbe detto un'altra cosa io che sono un uomo d'armi mi viene a dire di bagnarmi alla fine poi si convinse lo fece guarì dalla lebbra oppure il caso di bruno cornacchiola il vergente delle tre fontane dove la madonna apparendogli in quel famoso 12 aprile 1947 gli disse la promessa di dio rimane in eterno i nove primi venerdì del mese che tu spinto dalla tua amorevole moglie hai fatto quindi dice la moglie dietro insomma che ha convinto a farli adesso ti hanno dato questa grazia e quindi la conversione e poi addirittura diventato uno strumento di dio e della madonna bruno cornacchiola diventando il vergente delle tre fontane annunciato a tutto il mondo queste rivelazioni però era un peccatore un e lui esatto e lui però ecco il punto è questo li ha fatti e li ha fatti e li ha fatti evidentemente seriamente e qui c'è analogia anche con alfonso radisbonne no per la richiesta che gli fece quel suo amico di fare di recitare la preghiera del memorare ricordati di tuttavia vergine maria per nove giorni consecutivi e di mettersi al collo la medaglia miracolosa lui ebreo che non credeva assolutamente queste cose lo fece ecco questo mi sembra il punto fondamentale per pietro cioè l'ubbidienza no in qualche modo anche se non convinto perfettamente però l'ubbidienza il fatto di dire mi fido io non sono convinto ma lo faccio esatto per luigi e quell'obbedienza che però riesce ad albergare a trovare spazio nel cuore dei piccoli degli uomini dei semplici e in effetti è vero ci sono dei delle eccezioni alla norma per tirati sbonna era un ebreo un orgoglio come dire uno spirito orgoglioso quindi effettivamente un po un'eccezione però sono soprattutto e soprattutto questa categoria qui che accoglie ben volentieri e non si fa troppi problemi di ma perché questo perché quell'altro perché il signore chiede questa non quell'altra cosa gli interessa che lo chieda il signore e che dal cuore gesù procedano diciamo promesse benefici così grandi e quindi dico ringraziamo il signore se facciamo parte di questa categoria se veramente siamo diciamo desideriamo essere di questo piccolo greggio del signore ma piccolo semplice umile insomma che non ha grandi aspettative o grandi missioni dico esternamente parlando perché poi la missione di salvare le anime è la più grande di tutte eppure una casalinga può salvarne tantissime con la sua offerta però dico ringraziamo il signore perché è proprio lì che trova il terreno più fertile quindi siamo in qualche modo possiamo ritenerci soprattutto queste persone qui privilegiate per non avere tutte queste impalcature diciamo mentali o strutture e pregiudizi e così accogliere con tanta semplicità queste grandi promesse signore a cui bisogna credere perché c'è la storia che ci dice che è così quindi come dire c'è anche la la convalida dei fatti concreti contra factum non est argomento dicevano gli antichi non si può obiettare nulla i fatti reali ecco sì sì e siamo ormai giunti al termine anche questa volta della nostra trasmissione che peraltro è volata è stata interessantissima che si conclude comunque fra pietro con questo appello duplice da una parte mantenersi umidi che diciamo un elemento fondamentale per poi avere non avere quei problemi che diciamo si causi si provocano nel momento in cui uno vive diciamo in questo stato di orgoglio di sufficienza di giudicare tutto così in maniera minuziosa maniacale cercando sempre di trovare tutte le spiegazioni ma è poi nello stesso tempo anche in qualche modo lasciarsi guidare la provvidenza di dio e accettare di uniformarsi alla sua volontà di ubbidire in qualche modo anche a quelle indicazioni che si manifestano attraverso queste vie straordinarie sì io mi permetto questo punto che lui volevo dire qui siamo in conclusione che quando dio piacendo la nostra intervista sarà disponibile quindi sui canali divulgazione youtube sarà possibile avere sempre quello spazio di descrizione dove io volentieri metterò diciamo dei link per poter diciamo raggiungere questi sussidi queste cose di cui abbiamo parlato perché magari qualcuno che ci ha ascoltato è giustamente veramente interessato dice io vorrei fare questa questa cosa qui questa devozione vorrei accogliere ma dove le prendo allora noi premureremo di fare questo perché grazie a dio abbiamo lavorato in corso degli anni e sono disponibili anche in rete ecco tutte queste cosette quindi questo vorrei dirlo per rassicurare le persone in ultima analisi vorrei fare anche questo appello a rivalorizzare visto che siamo nei tempi della consagrazione mariana voi a schio come anche insomma la nostra realtà vive di consagrazione promuove la consagrazione delle anime veramente abbracciamola allora chiudo con questo appello che luigi veramente chiudo vorrei dire la situazione della chiesa del mondo è senz'altro la vediamo critica estremamente critica e non sappiamo quanto dio potrà ancora trattenere il braccio della giustizia ebbene allora l'appello a rivestirci della corazza della consagrazione che è veramente una corazza ci protegge veramente dai dardi infuocati del nemico se arrivasse lontano cosa succederebbe forse veramente in un solo istante sarebbe fermato miracolosamente questo fiume di impietà e immoralità dilagante non è impossibile c'è la promessa divina promessa del cielo che sempre valida per salvare le anime dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato come disse la madonna ai pastorelli e allora permetto anche di dire a noi moderni sembra strana inadeguata no magari una tale assicurazione ma come far cadere questa impalcatura diabolica che è fatta di politica di cose sociali di cose che compiono gli uomini potenti attraverso la consacrazione ebbene però direi che l'instaurazione del regno di maria attraverso il trionfo del cuore immacolato segue le logiche di dio che non sono le nostre ricordate la caduta di gerico come avvenne è attraverso una sorta di liturgia insomma di cosa non sempre non si sicuramente sparando colpi di cannone caddero caddero con i sette giri attorno a gerico non è che forse il signore ci sta indicando che le mura di questa nuova gerico che la società anticristico di erno e di questa diciamo nube tossica nella chiesa che si struttura come una pseudo chiesa debbano crollare attraverso qualcosa di simile a ciò che avvenne con l'esercito di giosuè vittorioso benché nessuno sguainò la spada combatterono con armi fisiche e allora quella della consagrazione fortemente voluta dal cielo dobbiamo ammettere che non è stata recepita così come il cielo si aspettava ma non è mai tardi a noi dunque la possibilità ancora oggi di scegliere per noi per le nostre famiglie di metterci su questo filone salvifico della consagrazione mariana grazie far prego grazie veramente di cuore per questo appello veramente fondamentale che dobbiamo accogliere e dobbiamo ricominciare a vivere questa consagrazione diffondere la consagrazione e cercare di corrispondere anche noi alle grazie di dio ecco siamo giunti al termine della nostra trasmissione e ringraziandoti ancora fra pietro speriamo poi di continuare questi nostri appuntamenti e in qualche nuova circostanza e con ulteriori approfondimenti grazie per luigi a te per questa occasione meravigliosa ribadisco perché tra amici si sta sempre bene e quindi anche per poter veramente far emergere queste cose a mio avviso veramente riposa la grande speranza soprannaturale dei nostri tempi quindi sono cose che sembrano magari di poca rilevanza ma in realtà sono tanto importanti quindi grazie anche a te per questa occasione speriamo che i piani di dio si possano compiere attraverso anche queste divulgazioni grazie ancora fra pietro e a tutti voi cari amici tele radio ascoltatori l'augurio di una buona settimana laudetur jesus christus